GR1 edizione straordinaria Buongiorno Duccio Guida al microfono del GR1, la rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Di solito riesci a ricordare l'ultimo momento di normalità prima della tragedia. Quel mio ultimo momento di normalità è stata la raccomandazione di mia madre e mia sorella di non muoversi e di tenere occupati i posti della sala d'aspetto della stazione di Bologna. Quanta gente qui in stazione oggi partono tutti? Bologna, innovazione. Bologna, specializzazione. Bologna, speranza. Bologna, morte. E guardo il mondo da un obblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sempre uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, si cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro i tuoi calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, 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 non dimmi che a quest'ora tu già devi scappare, il mondo è questa data ancora, si deve svegliare, Siamo insieme ad ogni po', forse sempre usciando cosa importa Luna, luna che cosa vuoi che dica non sollecitare Ti posso aprire solo un fiore e far portare anche a ballare Mi resteremo un po' felici e forse mando più che vici Luna, luna, oh na na, oh na na Oh, luna, luna, oh na na